A termo l'inizio all'era di Vincenzo Ferrazzano al timone dell'amministrazione comunale tra le opere urgenti, i parcheggi e lo spostamento del depuratore dal porto. Accertare speculazioni e rialzi ingiustificati dei prezzi dei carburanti molise e la richiesta fatta dall'Associazione Cultura e Solidarietà al Codacons. Proverbi e detti in dialetto nel libro del professor Domenico Di Lisa, un contributo dedicato alla comunità di Roccavivara per non perdere le radici. Dibattito a Macchiagodena questa sera con Giuliana Sgrena, musiche balcaniche a Montemitro e il teatro classico a Pietrabondante nell'estate molisana. Buon pomeriggio dalla redazione di TLT. È ricoverato all'ospedale veneziale di Sernia per diversi traumi e fratture agli arti. Un trentenne operaio caduto da una scala mentre lavorava sulla rete telefonica incontrata le piane nel capoluogo di provincia. Un volo di alcuni metri che ha richiesto l'intervento urgente dei sanitari e il trasporto nel nosocomio cittadino. Sono passati 67 anni dall'incendio avvenuto nella miniera di Carbone di Marsinelli in Belgio in cui persero la vita 136 operai italiani, dei quali 7 molisani. A distanza di tempo i sindacati continuano a ricordare ogni anno questo tragico avvenimento. Gli incidenti e le morti che avvengono sul lavoro sono purtroppo ancora frequenti. Oggi in Italia sono infatti già più di 400 le persone che nel primo semestre dell'anno hanno perso la vita sui cantieri e soprattutto nelle campagne. Passiamo alla politica. La città di Termoli ha bisogno di completare le opere pubbliche in modo urgente. Per il neoprimo cittadino Vincenzo Ferrazzano le necessità sono l'apertura di due parcheggi, lo spostamento del depuratore al porto e la pista ciclabile. Vincenzo Ferrazzano guiderà il comune di Termoli fino al voto del giugno 2024. Tra gli obiettivi da perseguire nell'immediato per la città adriatica, il completamento di due parcheggi auto, lo spostamento del depuratore del porto e l'ultima azione della pista ciclabile sulla costa molisana. In questi giorni del mese di luglio e agosto stiamo vedendo la grossa sofferenza di chi si viene a Termoli perché non si riesce a trovare un posto di parcheggio. Per cui va subito ripreso, affrontato e messo in atto tutte le procedure per la realizzazione del parcheggio multipiano a Piazza Donatori di Sangue e il parcheggio della rigenerazione urbana a Pozzo Dolce su cui abbiamo avuto già 5 milioni di finanziamento dal Ministero. Poi l'inizio dei lavori per lo spostamento definitivo del depuratore del porto e come prima dicevo in Consiglio l'appalto e l'inizio dei lavori per il completamento della pista ciclabile di tutta la costa molisana per un importo di 23 milioni di euro. Per quanto riguarda l'ambiente, veramente in questi giorni stiamo in grossa sofferenza perché dobbiamo riconoscere che sempre più andiamo avanti e più sempre il cittadino non si comporta correttamente per cui la ditta di raccolta dei rifiuti è in sofferenza. Però stiamo vedendo, specialmente in questa ultima settimana, la Rieco sta facendo gli interventi straordinari di lavaggio e di pulizia di tutto il centro e delle aree della nostra città per cui penso che in prospettiva miglioreremo sicuramente in questo settore. Da parte dell'ex primo cittadino Antonio Basso di Brino, l'augurio di buon lavoro a Francesco Roberti decaduto dalle sue funzioni di sindaco di Termoli per il ruolo più prestigioso di governatore regionale. Francesco Roberti è riuscito a dimostrare che pur partendo dal basso, perché lui è sempre stato uno di noi, è riuscito a raggiungere quegli obiettivi che pochi riescono a raggiungere, soprattutto stante anche la capacità di essere cresciuto da solo, di essersi fatto insomma con le sue forze, con la sua capacità, con le sue competenze ed oggi con la sua esperienza. Intanto a Palazzo Sant'Antonio la maggioranza di centrodestra è alle prese con la riassegnazione delle deleghe. In odore d'ingresso nell'esecutivo della squadra di governo, Nico Balice, capogruppo della lista civica, Roberti Sindaco. Ci spostiamo adesso a Campobasso, approvato oggi nella seduta di Consiglio Comunale il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche per favorire lo sviluppo della mobilità urbana adeguata alle persone con ridotta capacità motoria. Tutto ciò rientra nel piano urbano per la mobilità sostenibile già adottato nello scorso anno dal Comune Capoluogo ed è stato finanziato dal Ministero per le Infrastrutture per un importo complessivo di 39.000 euro. E sempre a Campobasso domani l'area verde comunale di Villa del Capo resterà chiusa al pubblico per tutta la giornata. Sono in programma alcuni interventi di manutenzione. La chiusura della villa riguarderà anche il parco giochi Paul Harris. Molise è al primo posto per il caro prezzi sui carburanti. Si mobilitano le associazioni dei consumatori contro le speculazioni. Andiamo a vedere. Negli ultimi anni l'economia italiana è stata interessata da un rincaro dei prezzi. Primo fra tutti quello del carburante, che dall'inizio del 2023 ha subito un ulteriore aumento del suo costo. Le cause sono da ricercarsi nei più recenti avvenimenti accaduti nel panorama internazionale, quali lo scoppio dell'epidemia di Covid nel 2019 e l'inizio della guerra tra Russia e Ucraina oltre un anno fa, che hanno avuto importanti ripercussioni economiche anche nel nostro paese. Il Molise risulta essere al primo posto tra le regioni italiane per quanto riguarda il costo medio del gasolio e l'aumento dei prezzi della benzina. Perciò le associazioni locali dei consumatori si sono attivate per sollecitare le indagini sulle eventuali speculazioni. A tal proposito l'Associazione Cultura e Solidarietà aveva chiesto l'obbligo per i distributori di esporre i prezzi medi, ma ciò non è stato sufficiente. Mentre è risultata più efficace l'attività investigativa della Guardia di Finanza, che ha individuato centinaia di situazioni irregolari. L'aumento del prezzo del carburante ha delle ripercussioni non soltanto sull'economia in senso generale, ma pesa molto anche sul bilancio delle singole famiglie molisane. Per Filippo Poleggi, presidente del Movimento Consumatori Molise, il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha presentato al governo un progetto delle opere strategiche valido per i prossimi dieci anni. Nel piano però non è prevista l'alta velocità per la linea ferroviaria adriatica che dovrebbe collegare Bari a Bologna. Attraverso le stazioni di Foggia, Termoli, Pescara e Ancona, rete ferroviaria italiana dovrebbe programmare 125 miliardi, ma il ministro Salvini ha escluso con questo progetto il centro-sud della penisola e il corridoio adriatico verso l'Europa. Istituzione della Molise Film Commission è la proposta di legge regionale del centro-sinistra a Palazzo Daimmo al fine di attrarre produzioni cinematografiche e audiovisive che valorizzino il patrimonio storico-artistico e paesaggistico, in grado pure di favorire l'occupazione e il turismo. La proposta passa ora all'esame della Commissione Permanente in Consiglio regionale. Restiamo alla politica. La minoranza a Palazzo Daimmo presenta una proposta di legge per istituire una commissione speciale che si occupi di studi e approfondimento sul servizio sanitario pubblico. Appalti, ASREM e contratti di accreditamento dei privati, organizzazione del servizio sanitario regionale e rispetto del piano del governo delle liste di attesa. Istituire una commissione consigliare temporanea di studio che approfondisca ciascuno di questi aspetti e la proposta di legge dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Andrea Greco, Angelo Primiani e Roberto Gravina. 12 mesi di tempo per le verifiche con una possibile proroga di altri 90 giorni a comporre l'organismo un rappresentante per ciascun gruppo costituito in Consiglio regionale. Previsti confronti ed ascolti con gli enti e di soggetti operanti nell'ambito del servizio sanitario molisano o portatori di interessi collettivi su atti e fatti di gestione con verifiche nelle aziende del comparto e negli ospedali, pubblici e privati accreditati. Poi la ricognizione dei contratti di appalto in essere per la fornitura di servizi ospedalieri e non per ottimizzare costi e ricavi e l'analisi dei contratti di accreditamento. Infine la formulazione di osservazioni e valutazioni mediante relazione al Consiglio regionale anche in considerazione dell'approvazione del Piano Operativo Sanitario 2022-2024 esaminando atti, registri e documenti. Il testo va a novellare la struttura di una precedente commissione temporanea di pari materie istituita con legge regionale numero 13 del 13 novembre 2019 implementandola. L'iniziativa legislativa passa ora all'esame della commissione consigliare che si occupa della materia che dopo aver svolto l'attività istruttoria ed espresso il parere di competenza la invierà all'attenzione del Consiglio regionale per le determinazioni conclusive. Don Luigi Ciotti, fondatore del gruppo Abele e di Libera contro le mafie oggi pomeriggio a Borrello, piccolo centro abruzzese al confine con l'Alto Molise per una nuova testimonianza sui lunghi tentacoli della criminalità e della malavita organizzata in Italia ad organizzare il confronto pubblico la parrocchia Sant'Egidio, la Caritas di Ocesana di Trivento e la scuola di formazione politica Paolo Borsellino. Assestamento di bilancio alla regione Abruzzo la patata bollente oggi in aula consigliare all'Aquila alzano le barricate le opposizioni di centro-sinistra. Un ordine del giorno molto impegnativo quello previsto per l'ultima seduta di Consiglio regionale oggi all'Aquila. L'assestamento del bilancio è la questione principale su cui le forze politiche di maggioranza e opposizione si stanno concentrando. L'obiettivo è quello di distribuire adeguatamente fondi e contributi. La somma a disposizione è inferiore rispetto a quella dello scorso anno. Questo crea quindi disaccordo all'interno del centro-destra per quanto riguarda la distribuzione delle risorse economiche. Tra gli altri argomenti di discussione vi è anche l'abbattimento delle barriere architettoniche. e il progetto di legge è volto a ridurre la differenza di retribuzione di genere. Infine, sul tavolo dei consiglieri, la relazione delle attività per l'anno 2022 svolte dal garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà individuale. alle 20.30 di questa sera nel cuore di Macchia Godena, Giuliana Sgrena è invitata a presentare il suo Donne ingannate e il velo come religione, identità, libertà. Il 4 febbraio 2005 la giornalista e scrittrice fu rapita a Baghdad in Iraq, una ferita ancora adesso non completamente rimarginata. Invece alle ore 19, sempre questa sera, al Teatro Sannitico di Pietrabondante, lo spettacolo Plauto, regia e adattamento di Cinzia Maccagnano. Domani sera invece la chiusura della 47esima edizione della stagione Teatro a mille metri con Euripide. Adagi, modi di dire, proverbi di Rocca Vivara, punto di partenza per Domenico di Lisa, per spunti e riflessioni sulle esperienze di vita passata. I proverbi antichi sono lezioni di vita tramandatici nel tempo dai nostri avi, nella loro forma originale, nel dialetto, sono stati arricchiti di saggezza e di valori umani, forse oggi affiavoliti da una società moderna e che corre velocemente. Il geologo e docente Domenico di Lisa ha voluto restituire alla sua comunità Rocca Vivara adagi e modi di dire, un volume che raccoglie e tramanda la semplice ma dura vita contadina di un tempo, spunti in dialetto, una vera e propria lingua da parlare e recuperare per non perdere le radici. Una esperienza di vita e degli adagi, dei proverbi che rischiavano di scomparire. Per evitare che questo avvenga ho scritto questo libro e spero che qualcuno voglia raccogliere l'invito a recuperare ancora di più rispetto a quello che ho fatto io perché non ho la pretesa di aver esaurito il lavoro, che quindi raccolga questo invito ad approfondire anche e a tramandare alle future generazioni delle esperienze che sono importanti, almeno lo sono per me. Quanto ci sono di valori, di saggezza e di radici nei detti, nei modi di dire e nel dialetto stesso? Ci sono dei proverbi, degli adagi, dei modi di dire che con un solo termine sostanzialmente riescono a rappresentare un programma perché appunto sono dei condensati di saggezza e di esperienze, di vita vissuta e quindi diciamo che i contadini che forse si esprimevano poco riuscivano a farlo con grande efficacia attraverso i modi di dire e i proverbi. A Roccavivare i giovani conoscono ancora il proprio dialetto e i modi di dire? Purtroppo non tantissimi. Il dialetto è stato, come dire, addomesticato. Il nostro dialetto poi è un dialetto molto particolare, ostico, stretto, frutto di un sostanziale isolamento geografico di questo paese e i giovani non sono stati abituati all'interno della famiglia a parlarlo. Per esempio goppa su colli, fatte l'air e motrusk che significa se hai fatto l'aia su questo colle non trebbirai. Adagi, modi di dire, proverbi di Roccavivara. Per l'autore è stato un atto dovuto alle generazioni precedenti che ci hanno guidato nel passaggio dal mondo contadino a quello globalizzato. Da oggi a domenica 13 a Casa Calenda la ventunesima edizione di Molise Cinema. Sei giorni pieni di proiezioni, concorsi e spettacoli che animeranno le piazze del paese. Isabella Ragonese, la protagonista dell'apertura del festival, questa sera alle 19.30 per la presentazione del libro Tutta la vita dentro. E prosegue a Termoli la rassegna artistica all'aperto il cinema e le stelle alle ore 21.00 Nell'anfiteatro di Difesa Grande il film di avventura e fantascienza Jurassic World Il Dominio. L'artista molisana originaria di Lupara Concetta Dabarno, protagonista di un'esposizione al Castello Svevo di Termoli. Il suo dipinto più bello La fanciulla in rosso è stato molto apprezzato anche a Roma. Dal 1 al 6 agosto al Castello Svevo di Termoli è andata in scena la mostra Cuori, Colori, Luoghi ed Emozioni di Concetta Dabarno, artista per pura passione di origine molisana nativa di Lupara. Vive e risiede professionalmente a Roma, ma il Molise è sempre nel suo cuore. Termoli è stato anche dove ha trascorso un periodo bellissimo della sua vita. Concetta ha tenuto questa sua personale nei giorni di grande festa a Termoli per i festeggiamenti in onore del santo patrono San Basso, ma questo non ha impedito un grande e notevole afflusso di visitatori per ammirare le sue creazioni pittoriche. Sei giorni che hanno soddisfatto appieno Concetta. Io ho frequentato il liceo scientifico a Termoli e ho avuto un professore che mi ha fatto amare molto l'arte. Era il professor Miccoli che purtroppo non c'è più e ci ha abituato a fare oltre al disegno geometrico anche il disegno architettonico, quindi un po' più articolato. E poi è una passione insita in me stessa. Quindi dopo la scuola ero indecisa, volevo fare la stilista di moda, l'architetto, tutto ciò che riguardasse l'arte perché è qualcosa di nato che ho dentro. Devo dire che molte opere prendono spunto proprio da quella che è la natura in Molise perché i colori sono molto vividi, sono quasi sfavillanti. Cioè io quando guardo un cielo in Molise guardo il mare di Termoli mi suscitano delle emozioni molto forti, molto grandi. A me piacciono i colori che lei utilizza, queste sfumature che quasi uno pensa di poterle toccare, questi fiori che sono grandi, inciganditi, come se volessero rappresentare proprio la bellezza del mondo che ci circonda. La fanciulla in rosso, il dipinto che è anche il manifesto che pubblicizza la mostra, ha ricevuto anche ottimi giudizi di critica durante una esposizione nella Via dell'Arte a Roma, Via Margutta. Uno su tutti, quello del noto critico d'arte Principe Alfio Borghese, questo il suo giudizio sul dipinto di Concetta. Una rosa è una esile fanciulla, binomio perfetto per raccontare un sentimento giovane. La figura femminile, i lunghi capelli, le braccia minute, di spalle guarda avanti e a sé un orizzonte luminoso carico di speranza. La rosa in primo piano gigantesca cattura lo sguardo, i petali sfumati raccolgono la luce e si schiudono alla freschezza. Il messaggio è romantico e nello stesso tempo sensuale, la gioventù e l'amore. Questa sera ultima data del MAC Festival Musica, Arte e Cultura a Montemitro alle 21 in concerto del trio Curdi Veri seguito dallo spettacolo di Lidia Coiceva e Balkan Orchestra. Secondo appuntamento della rassegna palcoscenici questa sera San Giuliano del Sannio il duo del Conservatorio per usi di Campobasso Michele Apollonio e Sara Prioriello in concerto al pianoforte sui brani classici di Chopin Schubert e Litz e adesso come ogni giorno spazio al meteo. Metal Impianti Carpenterie metalliche civili e industriali scale acciaio corten serramenti in alluminio PVC e legno alluminio Metal Impianti Boiano Info 0874 77 34 54 La gamma commerciale tutta l'energia che ti serve specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo Sereno oggi su Molise d'Abruzzo le temperature in Molise sono comprese tra i 13 gradi di Campobasso e di 27 gradi di Isernia in Abruzzo tra la minima di 11 gradi all'Aquila e la massima di 27 gradi a Pescara venti provenienti da nord-est poco mosso il medio adriatico soleggiato con rialzo dei valori climatici massimi domani sulle due regioni iniziamo dal calcio la nostra pagina sportiva ancora un movimento in entrata nel vasto Girardi per affrontare il prossimo campionato di Serie D in tutta tranquillità la società gialloblu ha ingaggiato il 24enne centrocampista centrale Edoardo Ceccuzzi con un passato nella formazione primavera del Perugia Ceccuzzi è inoltre militato nel Poggi Bonzi San Giovannese Ravenna Triestina è sempre il vasto Girardi domani pomeriggio sul campo neutro di Rivisondoli in Abruzzo affronterà un incontro amichevole con il Giuliano Team Campano che si è distinto nella passata stagione nel campionato di Lega Pro Cambiamo disciplina passiamo al canottaggio a Termoli la regata di San Basso è coinciso con la terza tappa del campionato interno al circolo La Vela per le categorie maschile e femminile andiamo a vedere Nell'ambito dei festeggiamenti in onore del santo patrono di Termoli di San Basso si è tenuta la regata San Basso terza prova del campionato interno al circolo canottieri di Termoli e questa l'ha più sentita proprio perché legata al culto della città di Termoli nella categoria maschile sono scesi in acqua quattro armi il barracuda gli sharks e i vogatori e poi gli sbarroni la classifica delle due mance ha visto sommati i tempi per ciascuno dei due lati percorsi dalle lance e quindi quest'ordine è finale per quanto concerne la classifica i barracuda che hanno prevalso sugli sharks per poco più di 3 secondi 21 minuti 23 secondi e 92 decimi contro i 21 minuti e 26 secondi e 68 decimi degli sconfitti la manche migliore è stata quella la prima degli sharks con 9 minuti 50 secondi e 51 decimi tra le donne invece ordine d'arrivo sommato con maruzelle tracine nereide stella marina e medusa anche in questo caso scarto ridottissimo con i primi 3 equipaggi compresi in circa 7 secondi 16 minuti 11 secondi 74 decimi delle maruzelle contro i 16 minuti 13 secondi e 40 delle tracine e i 16 minuti 18 secondi 85 decimi delle nereide una gara davvero emozionante su uno specchio d'acqua proprio sotto le mura del borgo antico che ha così contribuito anche a un ulteriore fascino dell'intera manifestazione la regata storica di San Basso che vuol significare sia l'inizio di un nuovo anno agonistico per quanto riguarda la voga e sia il giusto epilogo della nostra festa noi siamo un'associazione molto numerosa quindi abbiamo la possibilità rispetto ad altre associazioni di permetterci di poter fare anche un campionato interno e questa è la terza tappa del nostro campionato interno c'è molta partecipazione e l'anno prossimo raddoppiamo perché cominceremo anche con le scuole con l'attività del sedile mobile il cosiddetto Costa Rowing che è un'attività agonistica che parteciperà alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 andrà come partecipante ora nel 2024 ma non verrà premiata nel 2028 i Costa Rowing prenderanno piede e parteciperanno attivamente alle Olimpiadi Siamo in chiusura di telegiornale prima gara podistica non competitiva domani pomeriggio nel centro storico a Trivento ritrovo degli atleti al Belvedere del Paese alle ore 17 partenza un'ora più tardi 5 i chilometri da percorrere la campionessa italiana di atletica Letizia di Lisa sarà la madrina della manifestazione sportiva e con questo è veramente tutto grazie per essere rimasti con noi arrivederci grazie a tutti a presto a presto a presto a presto a presto Grazie a tutti.